La lettura di questo libro, una biografia su Marco Antonio Colonna, il grande ammiraglio pontificio del 1500, il subcomandante di Giovanni d'Austria per la flotta di Lepanto, il vice ammiraglio, l'ammiraglio in seconda, mi ha dato lo spunto per alcune riflessioni sulla corte papale e sulla corte, soprattutto sulla corte spagnola, della seconda metà del 1500, nei primi anni, che è poi simile anche agli ultimi anni, in realtà, di Filippo II. Diciamo la verità, essere al contempo grande di Roma, perché così vuole una sua battuta, principe nei territori del regno di Napoli e Patrizio Veneziano gli ha dato l'opportunità di fare quella carriera come ammiraglio. Però, in realtà, lui è un cortigiano, tutto sommato, perché vengono prima gli incarichi che ha i meriti molte volte e questo vale anche per lui. Nell'ambiente chiuso della nobilità europea Colonna gioca su due fronti, la curia pontificia e la corte di Madrid, tentando di avere degli incarichi. L'ultimo suo incarico sarà vicerè del regno di Sicilia. Purtroppo gli incarichi creano in amicizie e anche raggiungerli creano in amicizie. Se la corte papale vede cambiare le gerarchie facilmente con ogni cambio di papa, ci sono le sue familiari affamati che scendono a Roma e all'inizio Marco Antonio Colonna avrà a che fare con un papa che gli toglierà tutti i feudi romani e che cercherà di cacciarlo. Certamente tutto può cambiare quando gli succede un altro. Imparentarsi col papa, quindi, è una buona cosa. Marco Antonio Colonna, però, si imparenta con nobili sia spagnoli che napoletani che milanesi. I buon Romeo sono imparentati con un papa che gli farà grandi aiuti al colonna. Infatti ciò gli permette di giocare una partita su più fronti. Se, come ho detto, la curia papale cambia a ogni cambiare di papa e la sfortuna di un casato è perdere il papato, perché molte volte il papa successivo, non sempre, ma trova da ridire sui parenti, su alcuni almeno di questi parenti papali che hanno fatto cose contro la giustizia, si sono arricchiti rapidamente, ma a volte ci sta che non facciano niente, a volte intervengono i papi successivi. Poi, magari, arriva un terzo papa e questo perdona quello che è andato a colpire il suo presidenzore immediato. Colonna perde i feudi, li ritrova, ha grandi problemi anche per i feudi napoletani, in quanto suo padre era uno sperperatore. Ascanio Colonna era un pessimo capofamiglia, e tanto è vero che l'ha incarcerato proprio il figlio, e nessuno l'ha trovato da dire, né a Madrid, né a Roma. O meglio, qualcuno si è mosso, ma erano minoranza, non sono stati ascoltati, perché questo Ascanio Colonna era un incapace politicamente, non c'era nessuno che si avvantaggiava nel tenerlo libero, forse qualche parente del vicerai di Napoli, ma il vicerai di Napoli non poteva intervenire senza il voler di Carlo V, e quindi così è andata. Cosa dicevo su invece la corte di Filippo II? Come nella corte papale ci sono i nipoti che tengono banco, nella corte spagnola ci sono i favoriti. Il privado è potentissimo, ma non sempre è l'unico che mette l'ultima parola sugli affari del re, perché il re comunque è lui che decide, e Filippo II, il re prudente, ascoltava mille voci prima di decidersi. Era un re prudente, ma era un re anche titubante, quindi si muoveva lentamente. Ciò che poi gli sembra giusto magari arrivava in ritardo alla soluzione finale giusta, perché appunto ci voleva pensare su, accentrava tutto. I principali partiti all'inizio del regno di Filippo II sono due, l'Ebolista, cioè quello dei principi di Eboli, che era un portoghese, Rui Gomez, il quale come privado era il più potente di tutti, e il gruppo dei Albisti, cioè dei sostenitori del Duca d'Alba. Ma i due gruppi erano composti, e a volte qualcuno passava da una parte all'altra, soprattutto quando moriva l'immediato grande di una delle due fazioni. Gli Ebolisti all'inizio erano potentissimi, ma il Duca d'Alba poteva contare sul fatto di essere un grande di Spagna e di aver con sé il grosso della nobilità spagnola, e quindi la più influente sulle questioni del regno. Si battono sovente, si battono sia per le questioni delle cariche in Spagna, sia fuori dalla Spagna, Sardegna, Sicilia, Napoli, Milano, Paesi Bassi, e ognuno i suoi rapporti. Alba poteva contare su fortissimi rapporti in Italia, mentre il principe di Eboli doveva iniziare da zero, e quindi era disponibile a far salire sulla sua barca anche persone poco conosciute, però che avessero dei titoli adeguati al sostenere la sua fazione. Lui sosteneva loro, ma loro ricambiavano. Il principe Colonna, una delle principali famiglie romane, Patrizio Veneziano, nobile romano, nobile del regno di Napoli, imparentato con la migliore nobilità italiana, sua madre un'Aragona, quindi lontanamente imparentato anche con Filippo II, poteva essere una persona che faceva per lui. Purtroppo le cose non andavano sempre velocissime, spedite, come volevano certe persone. Colonna mangerà amaro prima di riuscire ad avere gli incarichi che desidera, e a volte si troverà in brutte situazioni. All'inizio si offre al re di Spagna come sostegno nello stato pontifiso, ricordando che se recupera i suoi domini, può controllare dai suoi castelli anche la piazza di Roma e far passare le truppe se ce n'era bisogno. Perché ricordiamo, dopo la passi di Catucan Bres, l'Italia era spagnola, ma prima dell'ora l'Italia era principalmente influenzata dalla Spagna, diciamo così poi dovrebbero valutare la definizione. Ma il Papa a volte era indipendente, anche perché il Papa pensava di avere un suo primato, e se poi si appoggerà più alla Spagna nel Seicento che alla Francia, questo non significa che la sua politica sia solo filo spagnola, a volte deve essere equidistante, a volte anche filo francese, per quello che può. Poi, con le guerre di religione, vedremo che si dovrà schierare dalla parte di chi difende di più le posizioni cattoliche contro i protestanti, o le posizioni cristiane contro gli ottomani. Ma nel 1500, nella seconda metà del 1500, la situazione è ancora fluida all'interno della Curia, e esisteranno poi i cardinali francesi e anche dopo non puoi togliere a una nazione così importante tutto il suo controllo. Fino a quel momento Iorsini significava Francia, Icolonna significava Spagna, però c'erano anche dei cambi di casacca anche all'interno di queste due famiglie. Colonna ha ampi domini nel regno di Napoli, e quindi si sente più al sicuro a appoggiare anche direttamente la Spagna, perché non è sicuro di guadagnare in Francia, sotto che si perde dall'altra parte. I due partiti si lottano su posizioni diverse, uno dice, che ne so, infrianda, cerchiamo di parlare, di pacificare con i oranzi, via dicendo, i nobili fiamminghi che sono scontenti, l'altro dice, bisogna estirpare l'eresia anche dai nobili e si lotta. In base anche a questo pensiero si fa il pensiero del re, in base a quello che vuole, fa, ma a volte disfa. La battaglia di Lepanto mette alla luce Colonna, che grazie anche ai principi deboli riesce a ottenere questo importante incarico, in quanto garante dell'alleanza fra la Spagna, in quel momento del papato, il papa riesce a dargli il vicarmogliato della flotta comune e gli fa tributo a grandi onori. Il problema, che Colonna con gli onori a Roma non li voleva, perché anzi, gli inimicano Giovanni d'Austria, il quale pensa di essere declassato da un subordinato e che Colonna se li si è accercati certi meriti. Quindi, in una corte bisogna sapere anche rispettare le precedenze. Certo, bisogna sapersi fare largo, ma tutto va soppesato. Dopo la morte dei principi deboli, si riforma la sua fazione sotto le spoglie della vedova che riesce a ritirare anche Giovanni d'Austria, il fratellastro di Filippo II, e continuano a combattere. Le tre affezioni principali sono Eboli, Alba e il cardinale Escobar, il quale si occupa parlo più di cose castigliane, perché ha pochi fedeli fuori dalla Castiglia e lui si interessa più a tenere questo posto alla Castiglia. Poi ci sono le ripicche per onore, ci sono le ripicche fra i vari consigli del re, con quello dell'inquisizione che vuole prevalere. Colonna si troverà attaccato anche perché tiene il punto davanti all'inquisizione in Sicilia e gli inquisitori vogliono degli onori che lui non gli dà e dei poteri che lui cerca di circostruvere. Quindi la lotta è serratissima, per qualunque cosa può scoppiare un caso e se fai un onore a uno del tuo gruppo che però umilia quello dell'altro gruppo, gli odi vanno avanti ed è inutile tentare di sostenersi da tutti e due gruppi o fai parte di uno schieramento dell'altro. Certo, se hai dei buoni legami anche con l'altro puoi esperare in qualche carica più facilmente, però puoi anche avere il dubbio che il tuo gruppo ti lasci a un certo punto. Quindi la lotta politica allora è un po' come quella di Ozzy nei piccoli partiti e dei grandi partiti. Il leader si influenza fortemente le gerarchie e la piageria è sempre presente.